ciao ragazzi benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi questo è un video velocissimo di aggiornamento per quanto riguarda i miei lavori sulle batterie di accumulo per il mio impianto fotovoltaico allora voglio mostrare cosa ho acquistato ieri aspetto un attimo che prendo i primi ragazzi questi sono i primi delle barre filettate da 8 mm un metro di lunghezza e mi serviranno per andare a realizzare la compressione qui ci sono le barre che io andrò a mettere così così ok e queste tramite i bulloni che sono questi bulloni sempre in acciaio inox mi stringeranno e terranno ben stretta ok la mia batteria o meglio la mia serie di batterie allora ragazzi come sapete il pacco batterie formato da più celle in serie bene io devo fare un 48 volt live più 4 perciò sono 16 celle ok calcolando che ogni cella è circa 7 cm come spessore mettendo le tutte in serie 16 vada oltre è un metro e 12 o un metro e 12 di batteria ok pacco batterie ragazzi un metro e 12 se uno non ha spazio per mettere il pacco batterie è troppo ok è esagerato le dimensioni delle celle sono 20 centimetri come altezza 17 come larghezza e abbiamo detto 7 come spessore bene io cosa farò io andrò a creare delle serie da 8 celle perciò facendo i calcoli sono 7 cm per 8 in serie uno a fianco all'altro io avrò 56 centimetri di pacco batterie ogni facco batterie sarà un 24 volt che poi tutte e due li andrò a mettere in serie eccole qua con questi ragazzi perciò io avrò 8 batterie bloccati perché devi devi sapere devi capire ma già lo saprai che le batterie questa tipologia di batterie vanno compressate ok proprio compressate vuol dire che messe una accanto all'altra e poi tenute belle compressate perché perché queste batterie hanno il vizio di gonfiare se per esempio hai un ciclo di carica troppo veloce o nel tempo possono gonfiare o anche con un corto circuito possono gonfiare che cosa si fa innanzitutto tutte le celle di fp4 di questa tipologia che sono quelle prismatiche hanno sopra dove hai due contatti una valvola di sfogo bene come funziona se tu compressi le celle loro non possono più gonfiarsi ok perché grazie a questi due e alle barre filen filettate che io andrò ragazzi a mettere in nei due fori laterali sia da qui che da qui ragazzi qua c'è anche il prezzo 2 euro e 70 questa ragazzi mi hanno fatto pagare un sacco di soldi due euro 10 di questi sono inox autobloccanti e le barre filettate in acciaio inox da un metro m8 3 euro e 90 cada una se ne sono andate un sacco di soldi io ne ho dovuti prendere 4 e 4 8 e 8 16 ragazzi 16 e queste pure 16 di queste un sacco di soldi ragazzi comunque barre filettate 1 e 2 da un lato 1 e 2 dall'altro lato street belle strette 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 tu hai due pacchi batterie ok che poi solo dopo verranno connessi in serie quando sono finiti verranno così appoggiati uno al fianco dell'altra ok e questo sarà il loro ingombro eccolo qui 40 centimetri circa per circa 60 abbondanti nemmeno 56 e per quanto riguarda la connessione del cavo era andato a comprare il cavo tutti in ferie riproverò lunedì ragazzi e vediamo di prendere un buon cavo io avevo in mente di prendere un 35 millimetri quadri perché facendo i conti può supportare correnti anche di 100 100 70 ampere ok in corrente continua il mio inverter singolo ovviamente non supera i 100 140 perciò a voglia la bms è vero è una 150 ampere ragazzi però alimenta due perciò dato che io dal pacco batterie farò uscire due cordoni uno per invertere uno uno per invertere due la bms da 150 ampere in teoria non dovrebbe dare più di 70 ampere per ogni inverter se noi facciamo il calcolo 48 per 70 che poi sono 75 ma va bene sono tre kilowatt e tre a voglia ragazzi cioè tre kilowatt e tre ogni inverter sono due sono 6.600 watt cioè io come farò mai a consumare 6.600 watt cioè dovrei accendere piano induzione lava stoviglie ferro da stiro forno forse sì se io accendo tutto questo ok 2000 2000 2000 2000 che allora si arriva a seguire ma nella normalità della vita dico coefficiente di contemporaneità non si farà mai tutto questo io stimo come dicevo già lo scorso video massimo di arrivare a 3 kilowatt 4 kilowatt se mi accendo anche per in estate il condizionatore ecco 4 kilowatt a voglia a fare perché se io sto consumando 4 kilowatt vuol dire che i due inverter lavorando in parallelo si dividono il carico perciò 2 kilowatt e 2 kilowatt a voglia a fare ragazzi niente questo è stato un video aggiornamento prossimamente vi farò vedere sicuramente perché già le batterie sono partite spero che settimana che viene arrivino in fretta io devo muovermi ho preso anche i fusibili e li farò vedere e devo muovermi a prendere il cavo perché mi serve e devo installare il tutto poi ragazzi il problema che ancora devo trovare soluzione è come faccio a trasportare questi pacchi batterie tenendo in considerazione che pesano 5,5 chili circa sono in tutto 16 sono 88 chili è vero che sono suddivisi in due perché 8 e 8 ragazzi sono 44 chili 44 chili se ben compressati in due senza avere problemi di titolo allora la schiena si può anche prendere sollevare e trasportare fino al sito di destinazione perché ragazzi io li andrò ad assemblare nel mio bunker e poi li andrò a mettere sopra ok in terrazza comunque io volevo fare una sorta di struttura però ci pensero in questo anche se non sono penso che posso fare volevo fare delle ecco prenderla con del filo di d'acciaio ok con del filo d'acciaio una sorta di tronchetto di legno per poterli prendere e sollevare però non ho dove appigliarmi ragazzi perché questo è 20 cm 17 cm la raghezza della cella e mette che parte da qui a qui ok dove mi appiglio cioè questi due nei lati saranno le le barre ok qui e qui va alla barra qui e qui le altre due barre che mi vengono ben chiuso e compressato tutto il pacco batterie dovrei andare a fare un altro foro altri due fori perché qui non posso forare perché qui ci sono le batterie e niente da vedere poi dovrei fare per esempio un altro foro qui uno qui e uno qui e mettere qui il filo di d'acciaio con un manico ecco così da sollevarlo da qui e sollevarlo da lì forse 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 potrebbe essere questa la soluzione giusta ragazzi se queste cose ti piacciono se il fai da te ti piace se il fotovoltaico la tecnologia seguitemi iscrivetevi al canale mi raccomando se vuoi abbonati mi dai un grande aiuto per mandare avanti tutta la baracca ragazzi acquistare nuovi prodotti fare recensioni aprire nuove collaborazioni e anche migliorare il mio bunker per fare sempre video migliori come vedi alle mie spalle o migliora del tutto mettendo un bellissimo green screen impianto di illuminazione già ce l'avevo ora ragazzi siamo quasi ai livelli mediamente professionali anche se forse devo migliorare la telecamera ma questo lo vedremo successivamente ragazzi per questo video è tutto un saluto da fox ha preso anche le rondelle rondelle di acciaio per poter andare a fare ben presa questi sulla strutturina che questa ragazzi ciao e al prossimo video